30 minuti, tanto è durata la grandinata devastante che dal Veronesa alla marca trevigiana ha colpito il Veneto nelle ultime ore. Alla fine quello che rimane è un tappeto di ghiaccio che ha ricoperto campi, orti e giardini. La stima dei danni è appena all'inizio ma il conto finale sarà elevatissimo perché ad essere colpite non sono state solo le colture ma anche le strutture. Le strutture non hanno tenuto, ci sono stati tetti scoperchiati, molti problemi con alcune serre e più in generale addirittura fenomeni che hanno visto la grandine ricoprire con quasi 20 centimetri, abbiamo dei video abbastanza esplicativi, tutto il territorio, in particolare la zona di Vidorre e di Follina. Danni anche agli impianti fotovoltaici installati su capannoni e stalle negli ultimi tempi per far fronte al caro energia. A causa della crisi energetica se erano rese un po' autonome per risparmiare in termini di costi si sono ritrovate a fare i conti con dei danni sostanziali. A questo si aggiungono naturalmente i danni alle colture, fruttetti e vigneti devastati. Il vento ha buttato giù i vigneti e quindi le nostre aziende devono ritornare in campo con un incremento di costi a tirarli su di fatto, per non parlare poi delle aree dove la grandine viene giù e rovina fisicamente le piante. Di fronte a questo quadro drammatico da col diretti arrivano le richieste al governo. Abbiamo già chiesto una moratoria dei pagamenti per le nostre imprese perché evidentemente bisognerà far ricorso a dei costi ulteriori e non preventivati. Il presidente del Veneto Zai in queste ore ha sentito il ministro dell'agricoltura Lolo Brigida. Ho confermato al ministro la richiesta che debba essere riconosciuto lo stato di calamità per l'agricoltura, spiega il governatore, nella speranza che a livello nazionale il governo possa adottare misure di sostegno alle aziende colpite dal maltempo con eventuali interventi di moratoria nei pagamenti e nella fiscalità.